Musica Ehi là, sono tornato! Quindi, Duchessa, finalmente parleremo di Crane. Molto bene. L'unione fa la forza. Seguimi. Va bene, ti seguo. Dunque, so dove si trova Crane. Davvero? Liquore di Duchessa, Barbon, tutta roba che tanto ti rivendo dopo. C'è un problema. Che tipo di problema? Duchessa, dove mi stai portando? Perché siamo entranti nel magazzino? Cosa mi stai nascondendo? Crane. Sei sveglio? Eh, tesoro? È tuo marito? Devo dargli un colpo? Poverino. Devo minarlo. Crane? Tutto bene? Ma che cosa? Ma... È morto. Che cosa credi di fare? È morto. Ma io... Ma te... Io gli ho dato un colpetto. Duchessa. Era pericoloso. Ma non l'ha fatto, no? Perché ce l'avevo sotto controllo? Io gli ho dato un colpo. È crepato da solo. Sarebbe fuggito, comunque. Chi ti ha dato il diritto di prendere quella decisione? Ma tu mi hai detto di dargli un colpetto. Se quel coso fosse uscito, io e Polly siamo stati testimoni della loro brutalità. È stato un atto sfrontato, ma non sbagliato. Tu, Solomon, a volte sai essere così maledettamente fastidio. Ma io gli ho dato un colpo, come mi avevi detto. Facciamo che... Che taccete per un secondo. Ok? E tanto io manco parlo. Che cazzo. Crane ha con sé una chiave magnetica e una mappa. Uno di voi due deve prendere. La prendo io, tranquilla. Questa è tutta colpa tua. Ma che cazzo volete da me? È tutta colpa vostra. Io vi sparo in faccia tutti e due. Te, me le prendo io. Ecco qua il tesoro. Ora, secondo la mappa, il tesoro si trova in una specie di deposito nella miniera di Gauli, dietro a una porta chiusa a chiave. Una porta che si apre con la chiave magnetica. Con questa chiave? La miniera di Gauli. È dove io e Polly abbiamo inseguito gli ardenti. Il figlio di... Quel... Crane. Ha attirato qui quegli esseri quando ha trovato il deposito. Ma tutto è bene quel che finisce bene. Quindi è un bastardo. Solomon. Non adesso. Chiedo scusa. Ora, questo... Ho provato a cercarlo io stessa, ma senza successo. Voglio che... Chissà come mai, eh. E te ne vada. Pago sempre i miei debiti. E questo lo considero saldato. Ma non voglio vederti per un po'. Vai. Ma vai tranquilla, tanto io neanche ti volevo vedere per molto tempo. Però prima ti devo vendere la tua roba inutile. Stronza, fai il tuo lavoro. Ma pensa a te se devo anche subire le angherie di sta stronza. Ma pensa a te. Ti rubo anche le lattine di alluminio. Il tesoro di Crenne non è tanto lontano. È tutto dritto di qua. Speriamo che ne valga la pena. Secondo me, no. Ah, bella casetta questa. Con la testa messa fuori. Carina. Vediamo gli interni. Mmm, appena entri al tareteste. Tutti i tavoli da lavoro. Qui c'è un bagno. Sei anche impegnato il tizio. Qua c'è un altro piano. Vediamo com'è. Bella l'idea di usare il mezzo muro qua per fare un divisorio. E qua invece usare l'angolo del tetto per fare questa divisione. Carina. Mi piace. Poi entrando il tizio sta dormendo. Bella casina, amico. Bella casa, sorella. Perdona il disturbo mentre dormivi. Ti lascio dormire, ciao. Mamma mia, come i maniaci ti entrano in casa per vedere cosa stai facendo. Stupidi ardenti, sempre di livelli più alti. Vi faccio il culo a tarallo a tutti quanti. Troviamo il tesoro, forza. Speriamo che non sia una cazzata e io credo proprio che sarà così. Allora, Crane. Dove nascondi il tesoro? Ah, qua è dove siamo usciti l'altra volta. Speriamo di non trovare nemici, allora. Cosa che invece... Credo proprio che succederà. Ti prendo a fucilata in faccia, eh. Mappa del tesoro. Cerchiamo un tesoro e troviamo un'altra mappa. Sparo a tutti nella schiena, santo cielo. Ho bisogno di un nuovo fucile a leva. Questo qui non fa più abbastanza danno contro i nemici. È vero, non farà più abbastanza danno come prima, però almeno riesco a ucciderli i nemici. Ok, quello era già morto probabilmente. Prima di tutto puliamo la zona. Seconda cosa, qual è il codice? Allora, 071990. Ok. 071990. Ecco fatto. Ho come l'impressione che sarà una cazzata io. Chiudiamo la porta che non si sa mai. E soprattutto mettiamoci un'arma più forte e veloce. Non si sa mai. Il deposito della Robco. Cosa avrà fatto Crane in questo deposito della Robco? Quanta sicurezza per questo posto. Crane, che cosa avevi trovato qui? C'è una formica lì. Oh, che carina. Sta arrivando qui per uccidermi. Bene. Ehi là, buongiorno. Siete abbastanza resistenti per sopravvivere a un colpo in faccia di fucile a pompa. Buongiorno a lei. Vabbè, resistono meno i rattitalpa delle formiche. Questa porta richiede uno di conoscenza. Dammi un attimo. Che ora sei aperta? Perfetto. Terminale di registrazione sistemi. Eh, magari c'è qualcosa per le torrette. Registrazione dispositivo Pip-Boy. Ok. Va bene. E vai. Registrazione completata. Contromisure disattivate. È possibile presentare il Pip-Boy al punto d'accesso. Tenga. Bene, così non mi sparano. Ottimo. Anche oggi è una buona giornata. Il punto però rimane. Come arrivo di là? Ah, c'era una porta qui. E chi l'aveva vista? Buongiorno, signora formica. Venga qui, per favore. E la madonna. Che resistenza. Santo cielo. Quanta sicurezza, ragazzi. Vediamo. Dove nasconde il tesoro Crane? Qualcuno lo sa? Quella è una formica luminosa? A quanto pare sì. Sì, ma resistono un sacco. Resistono un fottio e sono difficili da prendere. Il nemico perfetto. Dov'è? Ecco fatto. Wow, quanta resistenza per una formica. Quindi questo, in realtà, era tutto un deposito. Secondo me il tesoro di Crane non è proprio il tesoro di Crane. È il tesoro che Crane ha trovato. Un po' di slot machine. No, sono i macchinari questi. No, è una slot moneta. Porca troia, ho indovinato che cos'era. Cos'è? Un gettone di prova. Ok. Ah, quindi il tesoro di Crane è questo distributore probabilmente di armi. Oh, Gesù. Mani nude, armi da mischia e due mani, una mano. Andiamo di fucile, quasi quasi. Anzi, fucile a pompa. Mmm, no, aspetta. Fucile o fucile a pompa? Andiamo di fucile, magari ci esce un fucile a leva. No, è uscito un fucile da caccia. Che sfiga. Anticorazza corto, i colpi critici con lo spav, infliggono il 50% di danno. Vabbè, in realtà mica male. Ignora il 50% dell'armatura, infligge il 50% di danno in più con lo spav, ma di critico. Volendo, si può tenere. Io speravo più in un fucile a leva. Ma... Ma ci sono altri gettoni di questo coso? Non mi dispiacerebbe poterli farmare e farmi un po' di armi in più. La cosa bella è che in questa missione c'è scritto Sveglia Crane e c'è scritto fallito. Io ho fatto quello che mi ha detto lei di fare. Mi ha detto, dagli un colpettino. Tac, un colpo con l'arma. Non è che abbia fatto chissà cosa. Ed è crepato. Ah, io non l'avrei neanche ucciso volendo. L'avrei anche lasciato vivo. Ehi, duchessa, il tesoro del tuo grande amico era una stronzata. Sì, sono io. Eh beh, certo. Onesto. Brava, stronza. Eh. Di nulla. Certo che avevo ragione. Cioè, ascolta. Va bene, gra... Niente. Sì, brava. Duchessa. Un gran cazzo di nulla. Ho aperto una portale spazio-temporale. Era un'arma di merda. No, vabbè, tieni. Nica tanto, eh. Meriti molto di più in realtà. Grazie, duchessa. Dammi qualcosa. Farò uno sconto. Che io sarò qui e non sotto terra. Non pagherai mai il prezzo pieno. A questo punto è davvero il meno che possa fare. È il minimo. È il minimo, stronza. Se siamo ancora vivi, lo dobbiamo a te. Di nulla. Abbi cura di te là fuori. Da ribelle a ribelle. Da ribelle a sorella. Bella, frate. My wayward son. Ok. Vediamo cosa abbiamo ottenuto. Il progetto dell'arco. Non ci credo che ho sprecato per niente i soldi per comprarlo. Il progetto dell'arco che già avevo. Oh no. Beh, so esattamente cosa fare di questo fucile. Lo terremo per sempre. Sarà il nostro più grande tesoro. La nostra più gre... Ehi, ciao. Dammi qualcosa di utile. Come un laser grattling. Ah, pensa un po' che bello. Danni contro animali. Probabilità di colpire con lo spava e ricarica più rapida. Hm, non male. Al prossimo episodio Grazie a tutti.